L'AIRE, acronimo di Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, è gestita dai comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle rappresentanze consolari. Il curioso caso riproposto recentemente da un'Ansa locale riguarda le incongruenze rilevate negli atti di nascita di iscritti a registro nel 2023, ben 49, a fronte di una sola nascita registrata a Montorio nei Frentani dall'ufficio Anagrafe Comunale. Pellegrino Nino Ponte è stato rieletto qui per la terza volta sindaco alle scorse comunali, con una particolarità. In un paese che conta circa 360 abitanti, i cittadini che si sono recati alle urne a maggio sono stati 289, solo il 30% degli aventi diritto, in quanto sono ben 613 gli abitanti residenti all'estero distribuiti nelle varie liste elettorali presentate, quasi il doppio della reale popolazione del paese. Da primo cittadino si è impegnato e distinto nella promozione della cultura, in un territorio solo apparentemente privo di risorse. Basti pensare al fatto che nella chiesa di Santa Maria Assunta è esposta la famosa pala d'altare raffigurante l'Annunciazione, un'opera selezionata nel 2015 per l'esposizione all'Expo di Milano. L'influenza subita in questi anni per quanto concerne l'immigrazione, con un boom di richieste di iscrizione all'aire da parte di persone provenienti prevalentemente da America Latina e Canada, a Montorio quindi si testimonia con un episodio nettamente in controtendenza rispetto al perentorio spopolamento cui stiamo assistendo in questi anni nei comuni molisani. Che sia quindi questo un pretesto per la ripartenza al contrasto di un fenomeno tristemente noto a livello nazionale e internazionale e strettamente legato alla nostra regione, ossia quello dell'esodo a livello lavorativo e non solo? Il fenomeno di quello che potrebbe apparire una bassa affluenza invece è un'affluenza notevole per quanto riguarda i residenti perché c'è il fenomeno dell'aere. L'aere è l'acronimo dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nato con legge 470 dell'88, è stata attuata nel 1990 che ha permesso a tutti i cittadini di origine italiana, Iure Sanguinis, di riacquistare la cittadinanza e quindi avere il doppio passaporto. Questo è l'anno del turismo delle radici o del turismo di rientro. Noi abbiamo avuto delle famiglie argentine che sono venute qui per il riacquisto della cittadinanza e una coppia di ragazzi ci sono rimasti e hanno trovato lavoro e quindi hanno fatto una scelta di vita e sperando che possa essere questo esempio seguito pure da altri.